Grazie, grazie per questa possibilità. Io sono Massimo Specca, sono consigliere comunale, sostituisco l'assessore all'ambiente Martina Maranella che purtroppo si scusa ma non può essere qui perché ha il Covid, però io con lei ho seguito tutti i percorsi sulla transizione ecologica e soprattutto sulle politiche ambientali. Vi presento poi un esempio di Presidente della nostra società che giustisce i rifiuti dell'ambiente che è Terramo Medite, quindi tutto il ciclo dei rifiuti, la politica ambientale del territorio, ma si attraverso la Terramo Medite e la scelta di questo signore.